In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Sielo dato Gesù Cristo. Maria Sede Sapientiae, ora Pronobis. Carissimi fedeli, ritorno sull'argomento dell'altare, questa volta per parlare degli ornamenti che sono come gli accessori dell'altare e che lo ornano appunto. Ecco, ci sono degli ornamenti fissi che non vanno mai tolti, anche quando l'altare, poniamo, non viene ufficiato. In una chiesa ci sono altari laterali su cui non viene mai celebrata una messa, oppure poche volte durante l'anno. Nonostante questo, almeno tre ornamenti devono sempre essere presenti. Il primo ornamento, senza dubbio per importanza, è la croce. Il secondo ornamento sono i candelieri. Il terzo ornamento sono le tovaglie. Questi non vanno mai tolti da un altare, anche perché dà uno spettacolo indecoroso la presenza di questi altari spogli che diventano poi abbandonati e, nel peggiore dei casi, dei veri e propri ripostigli per fiori, libri, foglietti e cose varie. Quindi un altare dovrebbe sempre essere ben ornato in questo modo. Partiamo dalle tovaglie. Le tovaglie devono essere tre. Una lunga che copre tutta la mensa e scende ai lati, fin quasi a toccare la predella dell'altare. Un'altra tovaglia deve scendere piuttosto sul davanti in modo da mostrare un bordo il quale non deve essere molto, troppo alto. Ecco, questa illustrazione fa vedere quale deve essere la proporzione tra il bordo e l'altezza dell'altare. Il bordo può essere lavorato a pizzo oppure ricamato con dei colori. Questi colori però devono seguire i tempi liturgici. Un'altra tovaglia deve coprire solo la mensa. Solo la mensa. Sotto le... scusate, le tovaglie devono essere bianche. Questo è importante. Sotto le tovaglie è possibile e consigliabile mettere una tela cerata che copre direttamente la mensa dell'altare. Al di sopra, invece, delle tre tovaglie è bene, è consigliabile mettere un copri-altare, cioè una tela che copre soltanto la mensa, non scende né sul davanti né ai lati, di colore naturalmente diverso dal bianco, da mettere quando l'altare non viene ufficiato. Questa tela, copri-altare, deve proteggere le tovaglie dalla polvere. Queste sono cose consigliate, ma penso molto utili. Quindi, quando si celebra la messa, ovviamente, questa tela copri-altare deve essere tolta, rimossa e allontanata dall'altare stesso. Poi abbiamo i candelieri, che devono essere sempre in numero pari, qui ne vediamo sei, perché è un altare maggiore, e disposti in modo simmetrico rispetto al centro dell'altare, che è rappresentato dal tabernacolo. Ecco, i candelieri devono avere sempre e solo un lume, non devono essere predisposti per altri ceri, candelieri da tre, da due, no, sempre per un cero solo. Quanti ceri devono essere accesi per una messa? Dipende se la messa è letta, solo due ceri. Se la messa è cantata, quattro ceri. Se la messa è solenne, sei ceri. Se la messa è un pontificale, cioè è celebrata da un vescovo o da un cardinale, si aggiunge un settimo cero da disporre dietro la croce. Ecco, naturalmente, se queste sono le regole, allora sarà l'altare maggiore ad avere solitamente sei candelieri, perché lì vi si possono celebrare anche messe solenni, mentre negli altari laterali avremo solo due ceri. Ne bastano due perché vengono celebrate solo messe lette. Abbiamo parlato delle tovaglie, dei candelieri, ora parliamo della croce. La croce deve essere ben visibile, e questa è troppo piccola, visibile non soltanto al celebrante, ma anche ai fedeli presenti nella navata, e deve sempre avere anche il crocifisso, non essere una semplice croce. Due, diciamo, aste incrociate, come fanno i protestanti, deve sempre avere il crocifisso. La croce deve essere sempre al centro, negli altari laterali non sempre c'è un tabernacolo, allora avremo la croce e disposta sul gradino del dorsale, se non c'è il dorsale, sopra al margine più esterno della mensa. La croce potrebbe essere anche dipinta in questa pala d'altare, noi non la vediamo tutta, ma in questo caso basterebbe. Ecco, questi sono gli ornamenti sempre presenti sugli altari. Vi faccio notare che la simmetria, la simmetria la si vede molto bene negli ornamenti, ma anche in tutta quanta l'architettura di una chiesa. Una chiesa classica, cioè quelle chiese che venivano costruite tranquillamente fino alla metà del 1900, sono proprio l'espressione di una teologia chiara e fedele alla tradizione. La simmetria vuol dire rispetto per i dogmi, la dottrina stessa è un insieme di rapporti logici tra i vari dogmi della fede. Dopo la metà del 1900 si sono diffuse queste costruzioni in cui non c'è un punto chiaro verso il quale gli elementi della chiesa vanno a convergere e il fedele è costretto a cercare un punto di riferimento che non trova mai definitivamente. Vedete come gli insegnamenti che si danno nella teologia poi si riflettono nella struttura, nell'architettura della chiesa e persino nella disposizione degli ornamenti. Nella messa antica, la messa antica richiede la simmetria perché rifiuta il relativismo che invece si è imposto dopo il concilio Vaticano II. Si è lodato Gesù Cristo.